Salve a tutti, il 22 aprile è stata la giornata mondiale della Terra, una giornata nata nel 1970, quindi un bel po' di anni fa, con lo scopo di sensibilizzare e informare le persone su quelli che possono essere gli effetti del cambiamento climatico. Facciamo insieme due considerazioni. Il problema principale del nostro tempo è il cambiamento climatico, ossia il continuo aumentare della temperatura media sulla Terra. L'Unione Europea, come tanti stati nel mondo, si sono imposti come limite il 2050 per cercare di ridurre questo aumento climatico sotto i 2 gradi centigradi. L'aumento climatico è dovuto principalmente a due fattori, all'inquinamento atmosferico e all'effetto serra, legato alle emissioni di CO2. Quindi per poter ridurre il cambiamento climatico dobbiamo ragionare su questi due elementi, i gas inquinanti e l'effetto serra. Questi sono gli obiettivi che ogni stato ha nelle sue politiche di efficientamento energetico, edilizia eccetera. Basti pensare che l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, ha emanato una nuova direttiva dove impone che entro il 2050 tutti i nuovi edifici e gli edifici ristrutturati dovranno essere totalmente decarbonizzati e efficienti. Decarbonizzati vuol dire che dovranno essere alimentati solo da fonti rinnovabili. Efficienti vuol dire che dovranno ridurre al minimo gli sprechi. Questo è il nostro punto di arrivo. Quindi ogni stato membro dell'Unione Europea andrà a intervenire con step sempre più restrittivi su quelli che possono essere gli obblighi di legge in ambito di ristrutturazione di nuove costruzioni. Stiamo partecipando tutti insieme a una vera e propria rivoluzione energetica per abbandonare i combustibili fossili. Non fatti trovare impreparato, partecipa anche tu alla rivoluzione energetica. Se hai trovato interessante questo video metti un bel mi piace. Ci occupiamo di consulenza, vendita e installazione di prodotti e di energie rinnovabili in tutta Italia. Quindi se vuoi avere più informazioni e un preventivo gratuito non esitare a contattarmi. In descrizione trovi tutti i miei recapiti e i link al nostro sito e ai nostri social dove quotidianamente postiamo foto delle nostre installazioni. Se non vuoi perderti altri video come questo clicca qui e iscriviti al canale. Mentre da questa parte trovi altri video che hai realizzato per informarti su tutte le tecnologie e le novità in ambito energetico. Contribuisci attivamente alla rivoluzione energetica. Risparmi tu, ci guadagna l'ambiente. Grazie. 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 Grazie.